Buonasera gentili telespettatori, questo ultimo sabato di marzo ci porta a Ribera dove l'incuria di un ricoverato nell'ospedale che era sotto ossigeno per fumarsi una sigaretta, si toglie la maschera e con l'accentino cerca di accendere la sigaretta, ma naturalmente come succede in questi casi quando l'ossigeno incontra una fiamma succede quello che adesso vedete nel servizio che ha preparato per noi Filippo Romeo, vediamo. Sarebbe stata una sigaretta accesa da un paziente durante l'ossigenoterapia, la causa dell'incendio divampato ieri all'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera nell'Agrigentino e costato la vita all'uomo. I sopralluoghi dei vigili del foco e degli investigatori sono proseguiti per tutta la notte. Sembra che ad esplodere dopo che il degente ricoverato da poco più di 24 ore un cittadino d'origine rumena, costica, brustureano di 53 anni, residente a Canicattì, ha acceso la sigaretta, sia stato il macchinaio per la terapia. Nella notte sono stati sentiti medici e infermieri che si trovavano al lavoro al momento del rogo. La procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un'inchiesta e posto sotto sequestro l'ala del reparto di medicina del nosocomio. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, ieri sera il paziente stava effettuando una seduta di ossigenoterapia quando improvvisamente si sarebbe tolto la mascherina di somministrazione dell'ossigeno ad alta pressione e avrebbe acceso la sigaretta. Sarebbe stata la scintilla dell'accendino ad aver generato l'esplosione della macchina e l'incendio con le fiamme fuoriuscite per buona parte della serata dalle finestre della struttura. Fortunatamente nella stanza non c'erano altri pazienti. L'uomo era in isolamento e aveva gravi problemi respiratori. Un'esplosione fatale per il 53enne che è stato trovato carbonizzato dai pompieri intervenuti per domare le fiamme divampate intorno alle 20 di ieri. Sul posto hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Sciacca e dal comando provinciale di Agrigento che sono riusciti a circoscrivere le fiamme al reparto di medicina al primo piano dell'ospedale. Il tempestivo intervento ha consentito di mettere in salvo gli altri quattro pazienti che erano ricoverati nel reparto che sono stati trasferiti nelle stanze dell'area di emergenza. Per precauzione è stato evacuato anche il reparto di chirurgia che si trova al secondo piano. Oltre alle fiamme il fumo ha invaso buona parte dei locali del fratelli Parlapiano ma fortunatamente non sono state registrate conseguenze gravi per pazienti e operatori sanitari che erano in servizio. Presenti sul posto anche i carabinieri della locale tenenza e i poliziotti del commissariato di Sciacca con la questura di Agrigento che ha coordinato le operazioni e in corso adesso la verifica dei danni che dovrebbe essere limitata al solo reparto di medicina. Per comprendere l'isatta dinamica e ricostruire quanto accaduto occorrerà attendere la relazione dei vigili del fuoco e la conclusione delle indagini. Ha ripreso operatività questa mattina l'ospedale di Libera anche se operatori sanitari e pazienti sono ancora scossi per quanto accaduto. I ricoverati che erano stati temporaneamente trasferiti al pronto soccorso sono stati spostati nell'altra ala dell'unità operativa ed è stata riaperta la chirurgia. La macchina dei soccorsi è stata determinante nel limitare i danni. L'incendio ha generato grande allarme a Ribera mentre erano in corso i riti del venerdì santo con i familiari dei degenti che hanno vissuto grandi momenti di apprezzione fuori dalla struttura fino a quando non hanno avuto notizie che erano stati tutti trasferiti in locali sicuri e che stavano bene. Così il direttore sanitario Salvatore Cascio. Io devo fare un plauso al personale sanitario che è stato all'altezza nel mettere in sicurezza gli altri pazienti e nell'intervenire prima di che arrivassero i vigili del fuoco con gli idranti dell'ospedale che hanno messo in funzione e con le bombole, gli estintori antincendio. Questo prima di arrivare ai vigili del fuoco. Un evento che pone l'accento sulla sicurezza all'interno dei nosocomi italiani. Sollecita interventi in tutte le strutture sanitarie pubbliche il segretario nazionale della UGL Gianluca Giuliano. A seguire le operazioni di spegnimento delle fiamme ieri sera anche il sindaco di Ribera Matteo Rubolo. Avevo accanto il tenente che faceva la processione insieme a me al quale è arrivata una telefonata, si è allarmato e ho capito che qualcosa non era successo quindi ho chiamato subito il comandante alla polizia municipale. Nel frattempo mi sono arrivate delle immagini delle fiamme all'ospedale, ho lasciato la processione, mi sono precipitato qua, ho avvisato immediatamente protezione civile, mi sono sentito con i vigili del fuoco, con la prefettura e mi sono regato qua. Adesso un'altra notizia che ci coinvolge un po' tutti. Si tratta di vittime e della strada. Ancora una volta la disattenzione, la velocità, il cellulare che viene usato in maniera incosciente porta ad avere queste notizie e ad aumentare quelle che sono le vittime della strada. Vediamo i particolari nel servizio. Si chiamava Lice Culcasi, la ragazza di soli 23 anni deceduta sul colpo all'alba di stamattina a causa di un grave incidente stradale avvenuto nella centralissima via Virgilio a Trapani. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua auto, una Seat Ibiza finendo la sua corsa contro un albero e scontrandosi con una BMW in sosta. L'impatto è stato violentissimo, allertati i soccorsi sul posto e sopraggiunta l'ambulanza. All'arrivo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Lice. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il corpo della vittima dall'abitacolo dell'auto. La ragazza pare stesse per raggiungere la sua abitazione, poco distante dal luogo in cui si è verificata la tragedia. Lo schianto è avvenuto alle 5.30 del mattino nel tratto tra via Sebastiana Modeo Tito Marrone e via Gian Salvatore Cassisa. Non si conoscono ancora le cause che possono avere provocato l'incidente, tra le ipotesi dei carabinieri che stanno indagando un malore o un colpo di sonno. Un altro incidente mortale si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 17.30 a Valderice, nel Trapanese. Un 64enne, Salvatore Lobue, è deceduto dopo essere finito fuori strada. L'uomo stava percorrendo con la sua moto un'onda, la statale 187, direzione Buseto-Trapani. Lobue, secondo i primi accertamenti, avrebbe improvvisamente perso il controllo della motocicletta su cui viaggiava. Nell'affrontare una curva, la ruota dell'onda avrebbe toccato del pietrisco che si trovava lungo la carreggiata, circostanza che avrebbe fatto sbandare il mezzo. Il volo sull'asfalto non gli ha dato scampo. Poteva avere conseguenze peggiori l'incidente avvenuto ieri pomeriggio sul ponte di Via Jafar, nel quartiere Brancaccio di Palermo. Un'automobilista a bordo di una Peugeot 209 ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere violentemente contro il guardrail. L'auto si è ribaltata. L'uomo è rimasto intrappolato dentro la vettura. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'automobilista dall'abitacolo, che successivamente è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale Buccheri Laferla. Nonostante l'impatto e la paura, l'uomo ha riportato qualche ferita. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Il periodo che stiamo vivendo, la Pasqua, in particolare la Pasquetta, ci porta a ricordare a noi stessi e a tutti voi di prestare attenzione sulla strada, perché si può appunto morire o si può anche far morire altre persone e un minimo di disattenzione può procurare numerosi incidenti. Adesso cambiamo argomento, ma restiamo anche nel campo delle cose negative. Continuano gli smarchi, continuano ancora le vittime, che il mare mediterraneo spesso non restituisce. Vediamo il servizio. Una lista infinita di morte e disperazione, quella che si allunga e che vede nero su bianco i nomi dei dispersi in mare. Nel Mediterraneo si continua a morire una tragedia senza fine, nessuna notizia ancora, delle tre persone finite in mare durante le operazioni di soccorso della Trotamar Terzo. Tra loro anche la neonata di quattro mesi. Le ricerche vanno avanti, ma più tempo passa e più si affievolisce la speranza di ritrovarli in vita. In area Sarri, il veliero della ONG tedesca People in Motion, non appena avvistato il barchino carico di migranti, aveva fornito giubbotti di salvataggio ad alcune delle persone, lo ha fatto in attesa dell'arrivo della motovedetta della Guardia Costiera. I migranti però si sono agitati e cercando di avvicinarsi al veliero sono caduti in mare, si è scatenato il panico. L'equipaggio ha salvato 44 migranti, ma tre persone, due uomini e una neonata di quattro mesi originari della Guinea che viaggiava con la madre non sono stati recuperati. Le ricerche con le motovedette della Guardia Costiera sono andate avanti, ma di avvistamenti ancora non ce ne sono stati. Quanto è avvenuto in acqua internazionali è soltanto l'ennesimo caso. Strazianti le scene che si replicano ad ogni tragedia che si ripropone a cadenza ormai quasi quotidiana. Il 25 marzo, dopo il soccorso di una nave cargo, tre giovani erano finiti in mare e non sono mai stati ritrovati. Il giorno prima un quindicenne della Guinea è finito in acqua ed è stato considerato disperso. E lo scorso 23 marzo, esattamente una settimana fa, una bambina di 15 mesi dopo un naufragio a largo di Lampedusa è scomparsa nel nulla. Quattro dei migranti sono stati trasferiti al molo Favarolo di Lampedusa, al poliambulatorio dell'isola. Non erano in buone condizioni di salute e sono tenuti sotto osservazione. Altri 40 migranti sono stati trasferiti nell'hotspot di Contrada in Briacola, mentre alcuni erano stati condotti con il traghetto di linea a Porto Empedocle. E adesso un'altra realtà determinata dalle vicende storiche che stiamo vivendo, in particolare quanto sta avvenendo da diversi tempi a questa parte in Ucraina. Molti minori si trovano in Italia e l'autorità ufficiale dell'Ucraina ha presentato una protesta per quanto riguarda la impossibilità di far ritornare da parte dell'Italia molti minori nella loro patria per ricongiungersi con la famiglia. Vediamo i particolari. Diversi casi in Sicilia di mancata applicazione della protezione umanitaria per i minori ucraini, un caso internazionale su cui si è mosso anche il consolo ucraino che fa base a Napoli, Maxim Kovalenko, intervenuto stamattina alla conferenza stampa indetta presso lo studio Libera di Catania insieme alla gare civile, l'avvocato Rosa Maria Lofaro, nella qualità di difensore di un minore al centro di un contenzioso. La protezione umanitaria si riferisce alla tutela e all'assistenza fornita alle persone colpite da conflitti armati, disastri naturali o altre situazioni di emergenza. minori affidati alla custodia temporanea a famiglie italiane ma liberi di potersi ricongiungere i propri familiari in patria qualora lo desiderassero tramite un tutore internazionale indicato dal consolo il quale lo segue nelle operazioni dell'impatrio secondo quanto previsto dagli accordi internazionali. Qualche dato, in Sicilia i minori ucraini rifugiati di entrambi i sessi affidati a famiglie sono 250. Il recente caso di un 17enne la cui richiesta di rientrare in patria è stata bocciata da un giudice secondo cui rientro intera Ucraina martoriata dalla guerra comporterebbe un serio pericolo per i giovani convinto in un primo momento che l'eventuale ritornio nella nazione di origine avrebbe comportato l'invio a fronte notizie distorte da cattiva informazione salvo poi essere smentita dal fratello in patria il quale lo ha rassicurato che nessun minore viene inviato in guerra se non prima dal raggiungimento del 25 su un anno di età e un periodo di addestramento di almeno due anni. Al 17enne scrive l'avvocato che segue il caso gli sarebbe stato legato il diritto di confronto con la responsabile Ucraina e la madre tuttrice in violazione ai trattati internazionali. Alla base di questo comportamento vi sarebbe tentativo di alcune figure italiane che hanno preso in carico questi minori sfollati di intimorirli con un'azione che investe anche le istituzioni sull'eventuale rientro in patria e il contestuale invio nei fronti di guerra. Falso, tuone il console Covalenco questa è la questione intende andare sino in fondo e muovere denuncia presso le autorità internazionali contro l'azione dei magistrati siciliani che non rispettano gli accordi sottoscritti. Il fenomeno pare sia particolarmente diffuso nel Sud Italia. Prima di tutto ringraziamo per tutti gli italiani per l'accoglienza e l'assistenza per i nostri profughi anche per i minoregni ma adesso purtroppo possiamo vedere una tendenza abbastanza grave e siamo noi molto preoccupati per la cosa di non permettere di contatti l'autorità ucraina anche tutt'ora ucraina con i bambini. Non diciamo di rimpatrio in questo periodo ma anche il nostro governo ucraino garantisce la sicurezza dei bambini quando si tornano nel nostro patrio ma diciamo adesso che nessuna possibilità per i bambini di studiare la lingua ucraina sono dimenticate la nostra patria, i suoi parenti e nessuna autorità ucraina possono controllare il stato di salute, il stato di educazione e tutte le altre cose per i bambini. Il caso del 17enne che si è rifiutato di rientrare con la famiglia affidataria è adesso al centro di un contenzioso legale in sede civile. Il caso emblematico è il 17enne che aveva timore di essere mandato al fronte hanno ritenuto che ci fosse questo timore e quindi hanno bloccato la partenza e i ritorni in ucraina di questo ragazzino. Il ragazzino poi successivamente contattato il fratello e contattato tutti gli amici in ucraina si è reso conto che un timore di questo tipo non esisteva e per cui chiaramente ha cambiato idea e ha deciso di ritornare in ucraina e di ricongiungersi con i fratelli. Ma occorrono quattro giorni per avere un decreto del Tribunale per i minorenni perché c'è tutta una procedura particolare è successo che il minore si è rifiutato di ritornare presso la famiglia affidataria e quindi di non volere assolutamente muoversi dal Tribunale. Di conseguenza è dovuta intervenire una pattuglia della Polizia per poter affidare il minore alla persona considerata tuttora internazionale che in quel momento era stata nominata. E adesso parliamo ancora una volta di situazioni che si vengono a creare da parte degli uomini nei riguardi delle loro compagne e delle loro mogli. La vicenda è stata vissuta dal fatto che un 38enne a Catania che si trovava agli arresti domiciliari perché sin dal 22 aveva ancora una volta cercato di portare la moglie nuovamente sulla casa sua e si è ritrovato appunto ai domiciliari. Questa volta è evaso dai domiciliari e è arrivato dalla donna con la violenza e le ha strappato le chiavi dell'auto e ha cercato in tutti i modi di portare la donna dentro l'auto. Fortunatamente è divenuto il papà dell'aggressore che lo ha portato a miti consigli. L'uomo ha restituito le chiavi alla donna e l'ha cercato di fuggire. Ma la denuncia che era stata fatta ai terapini ai quali sono andati a casa dell'uomo che doveva essere agli arresti domiciliari lo hanno trovato e lo hanno trasportato questa volta in carcere. E adesso un'altra realtà quella che stiamo vivendo. Siamo nei momenti forti per chi crede nel periodo della Pasqua questa notte e la risurrezione del Signore. Ma la Pasqua comporta anche tantissimi movimenti da parte di italiani che approfittano del ponte per avere un po' di vacanza un po' di relax. Questo comporta difficoltà sulle strade e tutti i militari dell'arma, la polizia stradale o altro hanno approntato delle condizioni per cercare di rendere quanto più sicure quelli che sono i viaggi che vengono effettuati. Vediamo. Prosegue l'operazione Pasqua e Pasquetta sicure in tutta la provincia di competenza intensificati i servizi di controllo e perquisizioni domiciliari a contrasto della criminalità organizzata e dei reati predatori. Qui siamo sulla circonvallazione di A.C. Sant'Antonio con quattro battuglie dei carabinieri uomini del CIO compagnia intervento operativo a supporto per le verifiche al codice della strada e ai controlli documentari dei mezzi in transito decine alle sanzioni elevate e sequestro di mezzi sprovvisti di revisione e copertura assicurativa. Domani e dopodomani l'azione verrà ulteriormente intensificata anche con l'impiego di uomini in borghese specie nei luoghi di maggior afflusso di vacanzieri che in occasione della tradizionale scampagnata del lunedì dell'Angelo affollano spiagge parche pubblici e località di montagna. Particolare attenzione è rivolta alle città d'arte in considerazione degli elevati livelli di attenzione derivate dalla situazione internazionale. Tutti i comandi delle forze dell'ordine sono stati allertati e hanno coordinato e verificato attività di pattugliamento in tutte le articolazioni territoriali e aree in cui si concentrano vacanzieri soprattutto stranieri e spesso vittime di borseggiatori e delinquenti comuni abili in furti con strappo porti, aeroporti e stazioni ferroviarie e gli altri obiettivi considerati sensibili su cui si concentreranno gli sforzi a garanzia dalla sicurezza degli spostamenti e dei stazionamenti. I controlli non riguardano solo gli spostamenti stradali i servizi verranno potenziati durante le ore salarie e notturni con l'impiego di agenti della Polizia di Stato e Militare dell'Arme Borghese con controlli mirati soprattutto in aree sensibili mappati secondo criteri e compiti di intervento predisposti dai comandi provinciali un deterrente contro possibili azioni terroristiche il livello di attenzione è massimo e lo resterà almeno sino all'uredì prossimo. Quando parliamo di queste festività Pasqua, il Natale o altre si immagina che siamo tutti felici tutti con disponibilità economica per poter così avere i desideri e nello stesso tempo poterli realizzare ma non sempre avviene questo ci sono delle frange di popolazione che hanno enormi difficoltà economiche e ci sono anche degli enti come la Caritas che rimane aperta anche in questo periodo andiamo a Catania Caritas di Ocesana aperta anche a Pasqua sia stasera per la cena che domani nel giorno di Pasquetta per il pranzo l'Help Center accanto alla stazione ferroviare di Catania resterà aperto per accogliere i più bisognosi in cerca di un pasto caldo e di convivialità meritoria l'opera dei tanti volontari che prepareranno le pietanze nel segno della fratellanza e dell'accoglienza reciproca è un momento per le feste a maggior ragione che il concetto di famiglia viene esaltato ecco perché la Caritas di Ocesana è attiva da lunedì alla domenica tutti i giorni festivi compresi e in questo periodo ancora di più con la risurrezione di nostro Signore i nostri fratelli e sorelle potranno vivere un momento più forte e più di unione della famiglia ecco perché sia per domenica pranzo sia per lunedì dell'angelo saremo sempre presenti affinché il dono dei poveri sia un dono per noi e per tutti in quanti si rivolgeranno a questa mensa per la Pasqua? a maggior ragione dopo aver parlato e dialogato con tante altre realtà di ispirazione cattolica con le suore dove per esempio il lunedì saranno anche chiuse attendiamo almeno un 3-400 persone famiglie che verranno qui ma non solo per soddisfare il fabbisogno alimentare daremo anche qualche uovo di Pasqua ai bambini ma sarà proprio un modo per stare insieme ecco la povertà di oggi soprattutto in queste feste è la solitudine aspettiamo con gioia tante famiglie affinché possiamo vivere insieme la famiglia di Nazareth in occasione della Pasqua il pranzo sarà preceduto anche dalla celebrazione ecolistica tutti insieme alimentare non solo il fabbisogno alimentare ma alimentare anche la fede alle ore 12 la celebrazione eucaristica qui proprio domani con la Santa Messa e poi il momento conviviale del pranzo tutti insieme questo è il momento che ci unisce tutti i fratelli senza distinzione di religione tanti fratelli musulmani ascoltano stanno insieme a noi e ognuno vive il concetto di convivialità questa è la bellezza della nostra Pasqua andiamo adesso a Petrolia Sottana come ben sapete sono tantissimi riti le manifestazioni anche che vengono fatte fuori dalla Chiesa le processioni nel periodo di Pasqua ed in particolare nel venerdì santo a Petrolia Sottana poteva succedere una realtà con conseguenze ben più gravi nel corso della processione un 56enne che era detto all'esplosione dei fuochi d'artificio è stato colpito da un razzo che anziché andare verso l'alto è andato verso lui fortunatamente non è grave ma come dicevo le conseguenze potrebbero essere peggiori anche per quanto riguarda tutti gli altri partecipanti alla processione un'altra realtà e questo a volte ci vuole fantasia e faccia tosta un 56enne di paterno si è spacciato per diverso tempo come maresciallo della guardia di finanza andava nei vari negozi andava in esercizi e con situazioni particolari appunto dicendo che era un maresciallo della finanza si faceva consegnare della merce dicendo che poi sarebbe passato a pagare in un secondo momento fortunatamente la guardia di finanza perché sono state allertate da alcuni esercenti da alcuni commercianti è intervenuta e lo ha arrestato invece un'altra realtà che ci porta davanti a situazioni che forse tanto tempo fa non si immaginava di poter vivere c'è una carenza particolarmente in Sicilia di medici la regione siciliana aveva emanato un bando nella quale accettava la presenza di medici che non fossero italiani bene oltre 100 sono intervenuti sono stati accolti in Sicilia hanno cominciato a lavorare grazie a quel bando che la regione siciliana aveva fatto per coprire determinati voti bene adesso parliamo di un'altra realtà ci riporta sempre alla Pasqua d'altra parte la stiamo vivendo questa mattina alla Villa Bellini tripudio da parte di ragazzi di bambini che hanno ricevuto l'uovo di Pasqua vediamo i particolari un momento di gioia e spensieratezza per tanti bambini per il secondo anno consecutivo alla Villa Bellini torna la caccia alle uova di Pasqua evento organizzato dalla compagnia Curiosi Incanti con l'obiettivo di coinvolgere grandi e piccini un modo semplice per scambiarsi gli auguri ma anche per esaltare la bellezza del parco comunale più grande all'interno del contesto catanese tante le sorprese e le uova da cercare in giro per la villa rintracciate da bambini felici premiati poi con tanta cioccolata la caccia alle uova sono delle uovetti semplici che abbiamo nascosto questa mattina presto e i bimbi tutti quanti alla ricerca di queste uova ma l'obiettivo finale poi è stato quello di unire grandi e piccini qui all'interno del nostro cuore verde di Catania e la Villa Bellini un modo gioioso per festeggiare la Pasqua assolutamente sì per i bambini soprattutto loro devono viverla sia da un punto di vista religioso ma anche da un punto di vista giocoso ecco perché alla fine di questa caccia alle uova abbiamo aperto un uovo gigante e quindi il cioccolato il cioccolato che poi mette a tutti allegria e dà a tutti il sorriso mi sembra che neanche i grandi ti sdegnino assolutamente ecco perché invece che portarne sono uno ne abbiamo portati tre perché il primo giro è per i piccoli il secondo sarà per i grandi senti è una concedutine che si rinnova ogni anno questa è la seconda edizione quest'anno ancora più uova ancora più bambini io dico sempre che ci prepariamo al terzo anno quindi non sarà solo quest'anno ma terzo, quarto, quinto, sesto anno la faremo ogni anno il messaggio che passa è soprattutto quello di serenità e condivisione assolutamente sì anche di generosità oggi l'ho detto ai bambini che avevano trovato più uova ho chiesto ai bimbi che avevano avuto la fortuna di trovarne di più anche la velocità di poterlo condividere con bimbi che ne avevano trovate meno quindi bisogna essere generosi e Pasqua è anche questo una bella iniziativa per i bambini è un bel gioco dove si possono divertire e stare tutti insieme e hanno la possibilità anche di familiarizzare nel segno della Pasqua certo della pace e della Pasqua e non hanno però serenità i dipendenti della grande distribuzione in Italia che oggi hanno manifestato in tante città italiane anche a Catania i dipendenti della Lidl hanno manifestato perché vogliono certezza per il loro futuro occupazionale vediamo chiedono certezze per il loro futuro occupazionale hanno protestato stamattina in Vietnia e a Catania sono i lavoratori dipendenti della distribuzione moderna organizzata Feder Distribuzione dipendenti dei supermercati Lidl e manifestano per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto alla fine di dicembre del 2019 nella circostanza proclamata anche una giornata nazionale di sciopero oggi protestiamo perché non vogliamo calpestare i nostri diritti non vogliamo perdere le posizioni che abbiamo acquisito nel tempo e negli anni protestiamo perché non c'è stato rinnovato il contratto perché l'organizzazione su cui si appoggia la nostra azienda che sarebbe Lidl soltanto a noi non ha rinnovato il contratto il rinnovo del contratto ci spetta da 4 anni scaduto e quindi attendiamo questo rinnovo perché ovviamente sappiamo che il caro vita oggi non ci aiuta e quindi sappiamo che ci spetta e siamo qui a protestare proprio per questo motivo e abbiamo realizzato insomma un cartellone proprio per così ma anche ironicamente giusto per puntualizzare che noi all'azienda ci teniamo perché abbiamo sempre lavorato siamo gli ultimi ad andare al tavolo quando ci sono i festivi perché ovviamente ci teniamo e amiamo molto il nostro lavoro e quindi volevamo dire che non siamo noi quelli diciamo sbagliati forse ci hanno attribuito la parola se tu mi puoi aiutare siamo i responsabili ecco io dico a oggi che siamo veramente molto responsabili chiediamo soltanto di non come dire di non calpestare i nostri diritti ecco ci teniamo che continuiamo a lavorare con dignità ecco quanti sono i lavoratori interessati siamo tantissimi perché comunque a parte la nostra Lidl insomma sappiamo che c'è Ikea le Romerland tutte le aziende che fanno parte di Feder Distribuzione che è l'organizzazione che appoggia tutte le grandi aziende fino alle vostre richieste sono rimaste inascoltate? sì sono rimaste inascoltate e appunto per questo noi oggi siamo qui siamo scesi in piazza per promuovere questo sciopero e per farci sentire perché ormai noi diciamo basta basta di tutto queste situazioni noi vogliamo il nostro contatto che ci spetta di diritto e lo esigiamo e adesso una notizia che ci porta nel campo dello sport ed in particolare una notizia piacevole per 1500 ragazzi dai 14 anni in giù si riferisce alla partita Catania-Padova che si giocherà il 2 aprile al Massimino come ricorderete i fatti successi a Padova durante la partita di andata hanno portato le autorità sportive a impedire che ci fossero dei tifosi all'interno della partita che il Catania svolgeva bene questa volta l'autorità sportiva del giudice sportivo ha concesso che 1500 ragazzi che fanno parte delle giovanili del calcio dai 14 anni in giù potessero partecipare a questa partita e viene fatto in maniera tale che i giovani diano la dimostrazione di come si deve stare di come bisogna affrontare quello che è il calcio in generale ma lo sporto in particolare bene c'è stata però una nota da parte dei dirigenti del Padova i quali sono d'accordo per quanto riguarda che arrivino questi giovani come segno appunto di solidarietà e di comportamenti positivi ma nello stesso tempo lamentano che i loro tifosi non sono stati ai loro tifosi non è stato permesso di scendere a Catania e di vedere la partita ma ci auguriamo che tutto sia piani particolarmente con l'applauso dei tanti giovani e adesso la realtà che cade quando arriva l'ultima domenica di marzo bene questa notte lo vedete nel orologio che la regia vi ha presentato alle due bisogna portare le lancette dell'orologio un'ora in avanti sono tante le discussioni che girano attorno a questa realtà molti vorrebbero che l'ora legale restasse per tutto l'anno molti la considerano dannosa il dato certo questo è appurabile è che con quest'ora in più si risparmia moltissimo per quanto riguarda l'energia elettrica anche perché l'ora in più che viene ad essere creata ci porta la sera in particolare ad avere un'ora in più questa notte alle due ma non è necessario che lo facciate è importante che lo facciano coloro i quali devono soffrire dei mezzi pubblici chi non ha questa necessità può tranquillamente farlo domani mattina comunque ricordatevi che alla fine di ottobre l'ultima domenica di ottobre ritorneremo ancora da morte indietro bene eccoci nuovamente in studio non abbiamo notizie dell'ultima ora come nostra abitudine vediamo adesso le condizioni meteo della giornata di domani ultima domenica domenica di Pasqua la giornata di domani è caratterizzata da un cielo prevalentemente libero da nubi salvo qualche piccolo annuvolamento nella zona del Palermitano del Trapanese e del Catanese sono situazioni appunto di quelle molto molto leggere i mari sono calmi queste le temperature che saranno registrate sono temperature veramente molto primaverili vedete Pavermo 16-27 15-21 Messina 12-21 Catania 11-25 Siracusa come sempre anche se la minima è abbastanza elevata abbiamo Enna con le temperature normalmente più basse ma questa volta la massima non è la più bassa dell'Unità Massice bene finisce qui il nostro notiziario nel salutarvi vi auguro una buona e serena Pasqua anche un buon lunedì di Pasqua con la raccomandazione che faccio a me per primo e a tutti voi di goderlo in tranquillità ad arrivare c'è sempre tempo andando piano si arriva come dice l'adagio chi va piano passano e va lontano augurissimi da parte della proprietà di tutta la redazione di tutto il personale e mio personale perché possiate vivere tranquilli una Pasqua tranquilla serena e anche felici arrivederci buonasera e auguri di tutta la redazione di tutta la redazione